Hello ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Alice Mare Il videogioco che narra le storie del gatto, del topo e della formica Famosissimo gioco del gatto, la formica e il topo La scorsa volta siamo andati a recuperare la chiave nel mondo di Federica Non mi ricordo come si chiama la tizia, ok? Vabbè, è quella e... Abbiamo recuperato una chiave, che è la chiave del mondo Che ci sblocca teoricamente It's locked Non ci sblocca, ci sbloccherà una porta, suppongo Cioè, una l'ho presa Devo tornare per caso indietro e consegnare le chiavi a questo Che dovrebbe essere il coniglio in teoria Ah, ce l'hai fatta, perché stai piangendo? Sì, ci aveva raccontato una storia un po' strappalacrime One word to the next Un mondo dietro l'altro, no? Che problema c'è? Eh, va bene comunque, ne hai recuperato almeno una I collect everything you picked up in the world as well Io prendo tutto quello che recuperi dal mondo Presto svaniranno in ogni modo The Alice L'alice Le alici Le alici sono i pesci Sembra... Vabbè, ok, sembrano avere un... Hanging on Pense thread Ci sono delle pagine, le metto insieme Ecco qua, cosa mi ha dato? Burgundy Notebook Il notebook del Burgundy Paese dell'Africa Dell'Est Ottimo, ti aprirò la prossima porta Ti conto ancora su di te Oh, grazie E c'è di nuovo il gatto Le regole di questi mondi sono tutte quante Setup Sono tutte quante state fatte da un tizio, no? Non capisco personalmente Ma penso che abbia un sacco di tempo da perdere Fare tutte queste stupide regole, ma... Però dobbiamo seguirle Perché se non lo facciamo veniamo puniti Cosa? Non posso parlarne? Cosa consigli di normale varia da persona a persona? Boy You look like a vreck Sembri una vreck Sarà tipo una vecchia di paese, credo Don't need to get... No, non è vero Sì, dai, va bene Oh, did you forget? Cosa hai dimenticato? Io so tutto perché l'ho rubato Non te lo renderò indietro, ovviamente Quindi... Sei veramente vuoto al tuo interno? Is there even slightly... Cioè, almeno qualcosa? No, non credo Non vedo niente Ehm... Vabbè, è ora Ciao Ciao Posso andare avanti? Oh, grazie mille Gentilissima Ah, la camera della tizia con gli orsetti Ehm... Invita a giocare Ehm... Ok Can you open the closet? Puoi aprire l'armadio? Narnia 2? Apri il closet? Andiamo a giocare dentro l'armadio, bambina? No, mi dissocio, ovviamente Ho preso qualcosa dal What little boys Frog and snail And puppy dog's tail Ehm... Sì, ecco I bambini sono fatti da... Punte E invece le bambine sono fatti da zucchero e spezie Perfetto Bambina Sei fatta di zucchero e spezie, quindi? Speak, parla Dimmi qualcosa Allen Oh, mi... 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 Sai dov'è? Cosa? Ah, no, sai dove siamo, forse? Ah, è un sogno, ok, ok, grazie Prego Scusa, non sono bravo a parlare, ma non 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 l'odio Cioè, non... Ero solamente spaventata a stare da sola, ma ora mi sono accalmata un po' Vieni con me You want this? Vuoi questo? It's just blank sheet of paper, but ok È solo un pezzo di carta bianco, ma tieni Notebook scrap Ah, ok Forse è la storia di lei Da quello che abbiamo capito la scorsa volta Loro ci danno dei pezzi di notebook che possiamo usare per scoprire le loro storie Mia madre aveva un corpo molto fragile Quindi io cucinavo, pulivo e facevo le altre cose di casa Mio padre non stava molto a casa Alcune volte portava a casa un lupo o un cervo Così Io volevo andare a scuola, ma amavo mia madre Quindi stavo sempre a casa con lei Mia madre stava... riposava sempre a letto Dicendo scusa, scusa E la sua voce sembrava sempre come se stesse per andarsene via Vabbè, ok Quindi avevo una madre molto malata Che era costretta a rimanere a letto E per farciò lei faceva tutte le cose di casa Mi servirebbe una chiave per uscire, in teoria Però non so se posso prenderla da qualche parte Magari in camera della tizia Guarda, c'è un topo Good day Buongiorno Sono molto affamato in questo momento Oh Se bisogna di medicine ce n'è una stanza piena But the stomach The stomach medicine needs to be mixed Cosa? Il primo colore The first color goes The second yells And the first stops Sì Ciò che diceva la nonna Ma lei diceva anche che esploderà se faccio un casino Ottimo Puoi provare? Proviamo, certo Ho visto che c'erano qua delle medicine Aspetta che salvo eh Magari dici Stai per far esplodere qualcosa Medicine ci sono tre colori e devi mischiarle Se fai un casino esploderà Ti preoccupare Mi raccomando fai attenzione What color you mix Allora The first color goes The second yells And the third stops Chiaramente il primo colore è green Poi successivamente yells Perché è yellow Sì E poi red Perché stop Non è esploso Oh Dovrebbe essere ok Questa medicina funzionerà Credo Vedi? No aspetta Forse ci sono arrivato adesso Era tipo il semaforo probabilmente Ti viene portato le medicine Ma con chi sto parlando? Cos'è quel kirby sul comodino? Cos'è? Grazie Ah molto bene Ora mi sento bene Ottimo Ora non ho più bisogno di questo Prendila Una notebook scrap Mia nonna aveva un lavoro come farmacista Quando mia madre finiva le medicine Io andavo a casa di nonna E A comprare medicine dalla nonna Nonna quante medicine hai? Boh allora questa è esplosa Un giorno mia madre disse di andare là come al solito Oggi She wanted to give a present Oggi voleva anche darle un regalo Dato che si sentiva in debito con lei Era pieno di pane e vino Ma non sono per te da mangiare durante il viaggio Ma sai com'è? Pane e vino darle una bambina Non è che Come ti dico sempre Non uscire dal 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 sentiero solito Perché ci sono i lupi cattivi Questo era quello che mi dicevano me Infatti adesso c'ho una mezza fobia Vabbè Mentre camminavo nella foresta Ho trovato un bellissimo giardino di fiori E sono andato a perdermi Complimenti Scusa un attimo Ma mi servirebbe tipo una Una chiave me ancora Io devo trovare un modo per uscire da questo posto Oh Si è sbloccata Aspetta che salvo Che qua vai a capire i lupi Per favore non mi mettete niente del genere Grazie Potrei odiarvi per questo Cosa c'è qua dentro? C'è un piccione Ho preso un piccione Ah Schardof Eccolo qua Oh siamo fuori Ma adesso Ah giusto Prima che venissi Allen ho visto Ho incontrato la maestra O il maestro Non ho capito se un maschio è una femmina Ha detto di non andare da nessuna parte Ma ho rotto la mia promessa Dovremmo forse cercarlo Andiamo a casa di nonna Oh aspetta Possiamo prendere un po' di fiori? Va bene ok Non penso che sia un problema Mi piacciono i fiori È soltanto solo un sogno Ok adesso andremo Just go straight there Quindi vado dritto eh Dobbiamo semplicemente andare da nonna Eh? Non c'è il punte Non possiamo andare a casa di nonna? Oh mi gira la testa In a gem? Cioè è arrivato il lupo cattivo A forma di gatto Ciao Alice e Alice Ciao Alice anche a te Tutti Alice qua ci chiamiamo Ciao ciao sì Eh non mi guardare troppo È pericoloso sai? Cosa? Guardarti? Stavo scherzando non preoccuparti Vuoi attraversare il fiume? Eh ti porterò io Non sto scherzando Però non è Non è propriamente gratis Solo un piccolo gioco Eh Ti piacciono no? Non capisco cosa sono Gli starter Bulbasaur Squirtle Charm Come puoi vedere Ho qui un lupo Una pecora E un cavolo Era palesemente un lupo Una pecora Un cavolo Vuoi usare la tua barca Usa la tua immaginazione Io lo conosco Mi sa questo In pratica Te vuoi mandare Dall'altra parte la barca Tranne che Ci sono un po' di condizioni Puoi portare solamente Una cosa Sulla barca Alla volta Se lasci la pecora Solo con il cavolo La pecora Se lo mangerà Se invece lasci il lupo Insieme alla pecora Il lupo si mangerà La pecora Quindi qual è il minor Numero di passaggi Che devi fare Per attraversare il fiume E portare tutte e tre Le cose di là Molto molto bello Questa mi piace un sacco Aspetta che ci penso Perché non me lo ricordo Quale era la soluzione Allora noi abbiamo Il lupo Pecora e il cavolo Se lasciamo il lupo Con la pecora Se la magna Se lasciamo la pecora Con il cavolo Se la magna Dobbiamo portare tutte e tre Di là E possiamo farlo Una sola volta Cioè nel senso Possiamo portare Un solo cosa alla volta Naturalmente Se facciamo la stessa cosa Dall'altra parte del fiume Succede che Se lo mangia Quindi per esempio Se noi portiamo la pecora Di là E successivamente Portiamo il lupo Di là Rimangono da soli Mentre portiamo il cavolo E il lupo Si mangia la pecora Quindi quanti viaggi Servono per portare Tutte e tre di là Noi partiamo con La pecora Perché è quella in mezzo E quindi è l'unica Che può essere lasciata Da sola di là Successivamente portiamo il cavolo Recuperiamo la pecora Perché non possiamo lasciarla lì Quindi quattro Riportiamo la pecora indietro Cinque Portiamo il lupo di là Sei Torniamo indietro Sette Andiamo a recuperare la pecora Quindi in teoria Sono sette viaggi Non può essere andate e ritorno Perché giustamente È un numero dispari Oh sei corretto Fuck yes Molto bene Una promessa Una promessa Chiedi gli occhi E ti ritroverai Dall'altra parte No è diventata notte Sembra l'altra sponda The notice The notice Scrap C'è una nota Nella tua mano Don't stray from the past I warn myself Andare fuori dal sentiero Ma ero sicura Che non avrebbe adorato Se gli avesse portato Dei fiori Quindi ne ho preso Uno o due Al che un uomo Arrivò e mi chiese Se conoscevo Una Medicine Una farmacista Una che produceva medicine Pensavo che intendesse nonna Quindi gli ho detto Che gli ho detto di sì E che sarei andato da lei E se mi seguiva L'avrebbe incontrato L'uomo sorrise E mi aiutò a raccogliere i fiori Quindi Andammo da nonna Camminando insieme Mano per mano Ok Non tengo la mano A mio padre molto spesso Quindi era una sensazione Un po' strana Cioè non la tiene a suo padre La tiene a uno sconosciuto Che arriva e gli chiede Della nonna Vabbè ok You're spacing out What's wrong Stai viaggiando con la mente Cosa c'è Grandmouse Andiamo Sì andiamo dalla nonna Dai Mi chiedo se la mamma Stia bene La Sunday She won't wake up Un giorno Non si sveglierà più E non parlerà più Sì ok muore Allen Is there someone you want C'è qualcuno Che vuoi proteggere Non lo so Non so chi sono Tra un po' Ah giusto Hai perso le memorie Ma anche lei È simpatica vedo Cosa non intendevo Vabbè andiamo avanti Che inizia a fare un po' freddo Ci ha detto di andare Go straight Quindi dovrebbe essere di qua È chiusa Dopotutto questa strada Che abbiamo fatto Cosa c'è Allen No niente la porta è chiusa Ma posso andare tipo Da altre parti No non c'è niente C'è un coso qua Oh e voi cosa volete La porta è chiusa Beh certamente è strano Con la casa non ha nemmeno La serratura Ah beh Ovviamente ci sarà un modo Sua squiquini Squiquinex essa Cioè tipo Vabbè il mondo dei topi Avranno un dizionario Topesco Sto aspettando un fiore Praticamente non posso vivere senza Quindi portamene uno Ok Io ho preso un tipo di fiore a caso Giusto Lo dirò solo una volta Quando è rossa È appassionata Tipo la rosa Quando è bianca She gives pure XXX Quindi quando è bianca Sesso Sesso Cioè Quando è blu È eternamente devota Ma quando è gialla È gelosa Un'ultima cosa Molto spesso viene Scambiata per altro Al contrario dell'altro fiore Però questa non fa male Quindi non fare Cioè non fa male alle persone Abbiamo preso dei fiori prima Ce ne sono un po' Ah no ok Quindi adesso dobbiamo scegliere Quale fiore dargli Io raga non lo so Il linguaggio dei fiori Cioè il tulipano Il margaret Che è tipo il nome di una persona Quindi probabilmente Lì stiamo dando Nostra nonna Credo Andrò su pansi Perché mi piace di più No Non è vero My word will be serious with me Ah cacchio aspetta Oh credo che fosse sbagliato Sì non ci mangiare Ti prego Ah ok No possiamo avere un altro Un altro nome E allora andiamo col carnation Che mi piace anche quello Oh me l'hai portato davvero Era giusto Ottimo Finalmente posso mangiarlo Non so cos'è neanche il carnation Ah se l'hai mangiato Oh molto buono Sì è veramente il migliore del mondo Il meglio Ah giusto Volete qualcosa per la porta Ecco qua Un'ascia Cioè io ho preso un'ascia Da un coso che sta su un tronco Grazie Gentilissimo Molto pesante per me Forse bisogna usare un po' di forza Ma dovrebbe funzionare Sì Mi ha dato un notebook scrap Grazie signor topo Di quel campagna Siamo arrivati a casa della nonna E la nonna E ci ha accolto Quella dovrebbe essere la nonna Anche l'uomo ha salutato Dei medicini Della medicina è nel posto solito Sono andato a prendere le medicine E da quel momento ho sentito un suono Ho visto un lupo mangiarsi la nonna Ah non era un uomo allora Cioè come cacchi hai fatto A scambiare un lupo per un uomo Ma nel senso Io non capisco neanche Capucetto rosso Ma è questo è capucetto Oh mio dio Raga buoni tutti Buoni tutti perché sto capendo il gioco Sono delle favole Questo è capucetto rosso Quella dell'altra volta Della casa La strega La casa di Di Come cacchi si chiama Di pan di zenzero Raga sono tutte favole Dennis stuffed a lot of medicine in a bag Quindi si è preso un po' di Un sacco di medicine Mi ha notato E ha iniziato a venire verso di me No però stiamo molto calmi Perché non può esserci il lupo qua dentro Ti prego Please Eh please Ok Con l'ascia si apre L'abbiamo sfondata la porta Sì ma adesso Allora quello lì nel letto è il lupo È palesemente il lupo Ascolta Vado un attimo nel retro Vado a vedere cosa c'abbiamo qua dentro Perché c'è un qualcosa Mi sa che è un piece of shard Qualcate Word key Ok Abbiamo preso la chiave del mondo Quindi dobbiamo trovare il teacher Però c'è un qualcosa là dietro Non so se hai notato Sentilo 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 No ti prego No ti prego È arrivata l'altra stanza Non voglio andare a vedere No non mi muovere No io ti prego Non andare Non lasciarmi da sola Per favore No vai tranquillo Sto qua fermo anch'io Possiamo chiudere la porta Per favore Ti prego Ah no ma doveva ancora arrivare il lupo Signor lupo Tutto a posto? No Non sei mia nonna Vabbè per fortuna Ah giusto è solo un sogno Non voglio vedere Non ancora I want to Non lo rifarò di nuovo Intendo Dimentica Cioè perdonami Usa l'ascia O Tacle Beh Se vuoi un lupo in teoria Puoi usare anche l'ascia Correrò solo No ma cosa è diventata adesso? Fermati Cos'è diventata? I close my eye Chiedo gli occhi Così non posso vederlo Tienimi la mano Cosa sta facendo? Cioè abbiamo Abbiamo accettato il lupo Per quello che era Non posso guardare le persone negli occhi Sono Ho troppa paura Tienere la mano Mi fa ricordare Se solo I had Se solo non avessi raccolto quei fiori E non l'avessi incontrato E non avessi tenuto la sua mano Cioè è stato molto sangue Sì ok Se solo non avessi lasciato il sentiero E bla 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 Teacher I still can't Versus Versus To size Where Help me Ok aiuto Ah siamo tornati nel Vabbè ok abbiamo recuperato la chiave almeno Ragazzi ormai è chiaro Che non si capisce niente Ad ogni modo Abbiamo completato anche il secondo capitolo Io penso che per oggi possa essere tutto noi ragazzi ci rivediamo alla prossima parte sempre su Alice Mare qui dall'Anulf è tutto ciao a tutti